se rimuessi una caña mira che controllo a vera, a vera, a vera si c'ha così a vera, a vera che sto stando dentro l'almo Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guard Cosa cosa c'è? Parlando di amore, questo video è meraviglioso perché immaginatevi, è protagonizzato da Chris che c'è un ragazzo che si chiede a mano a sua moglie Angelina in un ponte in Brooklyn e in New York tutto idillico e prezioso c'era un fotografico per grabare tutto questo momento che poteva essere male che poteva essere male sempre c'è qualcosa che può essere male Vieni, vieni, vieni hai che chacar al fin hai che chacar al final del video hai va hai che chacar fiedere di mano vieni 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 Grazie a tutti.